Numero 7 che intervistiamo delle 12 Marie, eccoci qui, come ti chiami? Beatrice Costantini Quanti anni hai Beatrice? Ho 21 anni E adesso pensa che domanda ti faccio, da dove vieni? Sono nata a Venezia ma abito a Marghera, ho sempre abitato in terraferma, prima mestre e adesso a Marghera Cosa fai nella vita? Nella vita sono una studentessa, mi sto laureando in psicologia dell'educazione e oltre allo studio mi dedico allo sport a livello agonistico in particolare faccio competizioni di danze caraibiche Perbacco, danze caraibiche, insegnerai qualche passetto magari Allora, è la prima volta che partecipi alle Marie? No, non è la prima volta, ho partecipato anche l'anno scorso e aspettavo da un anno questo momento diciamo che a partire dai 18 anni ho sempre desiderato partecipare quindi è da un bel po' di anni che aspetto di essere scelta Quindi un anno di attesa per tornare qui, passare un altro pomeriggio di sofferenze, di pathos e poi bam, vengo scelta Che ti aspetti a questo percorso che adesso dovrei affrontare? Allora, innanzitutto mi aspetto che mi regali grandissime emozioni e che mi regali anche nuove amicizie che sono le mie compagnie di viaggio Spero veramente... Amici adesso Oscar, piacere Già prima amicizia che ha fatto ragazzi? Spero veramente che si creerà un gruppo coeso, unito Spero che questa esperienza sia, anzi sarà indimenticabile e ne sono sicura Inoltre mi aspetto che ci sia molta partecipazione da parte del pubblico visto quello che si sente nei telegiornali Ci sarà, ci sarà Adesso dai un'occhiata ai nostri telespettatori e convincili a votarti Allora, votatemi perché sono una ragazza solare sorridente e mi piace molto scherzare stare in mezzo al pubblico e soprattutto trasmettere al pubblico quello che sto provando e quindi votatemi E allora salutiamo i miei amici di Tere Venezia Ciao Ciao